Un saluto a tutti amici visitatori di Telebabu.tv o anche Telebabu.web Siete tutti invitati a partecipare alla festa di Santa Lucia di Cesa 2017 dal 24 al 29 agosto 2017 con il gran concerto dei Nomadi per gli appassionati di musica Festa di Cesa di Santa Lucia Siete tutti invitati a partecipare alla festa di Cesa Santa Lucia edizione 2017 e per gli appassionati di ciclismo e di corse di ciclismo ma di sport di ciclismo il martedì 29 agosto l'ultima giornata della festa di Cesa si interrà il circuito di Cesa edizione 2017 per tutti gli appassionati di ciclismo e di sport Siete invitati a partecipare e a vedere la gara ciclistica martedì 29 agosto circuito di Cesa e sempre per gli appassionati sempre martedì 29 agosto gran chiusura della festa di Cesa con lo spettacolo pirotecnico i fuochi d'artificio di Cesa Siete tutti invitati a partecipare alla festa di Cesa 2017 ricordatevi dal 24 agosto al 29 festa di Cesa Santa Lucia e dopo questo video potrete vedere l'intervista al presidente della festa di Santa Lucia che in questo modo ringraziamo per la disponibilità che ha avuto con noi ringraziamo quindi il presidente della festa di Santa Lucia e tutti i festieri della festa di Santa Lucia complimenti per la bellissima festa un saluto così da parte di Telebabu Web TV e un saluto anche a tutti gli amici di Cesa da parte di Telebabu Web TV un saluto e seguiteci sempre su Telebabu Web TV e prossimo video ciao